Un imponente servizio d'ordine ha accolto questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha avviato presso l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno la seconda fase della tappa nel comune capoluogo. Dopo la presentazione dei candidati alle regionali avvenuta ieri al Grand Hotel, il leader del Carroccio ha voluto compiere un sopralluogo presso il Covid Hospital di Salerno che, come denunciato anche dal consigliere comunale e provinciale Dante Santoro, oggi candidato proprio nella lista della Lega, non è mai stato aperto per la mancanza di collaudo. Salvini ha ceduto la parola proprio a Santoro per dargli merito del lavoro di denuncia svolto. Perché questi prefabbricati costati milioni di euro ai cittadini campani ancora oggi non sono utilizzabili. Addirittura si parla, Matteo, di 18 milioni di euro per tre tendopoli che sono ospedali fantasma di cui due inutilizzabili perché la ditta ci ha detto che non è collaudato. Quindi qui coloro ci fossero dei casi non potrebbero essere ospitati. Noi l'abbiamo denunciato, vogliamo sapere come sono stati spesi i soldi dei cittadini e come si affronterebbe l'emergenza coloro l'avessimo visto che questi ospedali fantasma non possono ospitare nessuno, nel frattempo si è arricchito un privato e abbiamo ospedali chiusi da questo governo regionale inutilizzabili. L'intervento di Salvini conteso tra chi voleva fare selfie ma anche qualche contestatore si è concentrato proprio sulla manovra sanitaria e quanto resta da fare in campagna a partire dal ripristino della meritocrazia. Conto è fare il simpatico su facebook, un conto è scherzare con cattivo gusto sulla pelle e sulla salute dei campani e dei salernitani anche perché qua a differenza di altre città, penso a Milano dove un ospedale d'emergenza è stato allestito con fondi privati, quindi con donazioni dei privati, questi sono denari pubblici, sono soldi dei salernitani, sono soldi dei campani sbattuti via e quindi mi auguro che ci sia qualcuno in qualche procura che vada fino in fondo per capire se qualcuno ci ha guadagnato, come ci ha guadagnato e se sono state rispettate tutte le norme. Detto questo, ultima riflessione, solo negli ultimi anni i numeri dicono che dalla campagna più di 50 mila donne e uomini hanno dovuto prendere il treno all'aereo per farsi curare negli ospedali di altre città e per farsi operare negli ospedali di altre città, quindi è irrispettoso nei confronti dei campani, spero che il 20 e il 21 settembre il cambiamento passi anche attraverso una visione più concreta, più moderna, più rispettosa della sanità, sia pubblica che privata. Luca ha sempre detto che questi ospedali sarebbero nati per una seconda emergenza, quella anche che si aspetta ottobre, quello che sta succedendo di nuovi casi potrebbe prodargli ragione, non lo pensa? Sì, però se non lo puoi usare, se non hai collaudo, se non ci puoi ricoverare eventuali pazienti. Ma come cosa pensa della sua gestione dell'emergenza? Non commento, non commento, non sta a me. Io ringrazio i campani e gli italiani in generale perché hanno dimostrato rispetto, buonsenso, generosità, solidarietà, però non ti puoi approfittare di questa generosità, ripeto, da Caserta a Salerno, passando per Napoli, chiudendo, disfacendo la sanità. Uscendo al termine del sopralluogo non è stato consentito l'ingresso ai giornalisti, è stato lo stesso Salvini a raccontare che il direttore generale dell'azienda ospedaliera ha negato l'ingresso presso la struttura. Esiste infatti un regolamento regionale voluto dal presidente De Luca che vieta l'utilizzo a fini politici di visite nelle strutture sanitarie. Il generale molto gentilmente ci ha detto voi qua non entrate, è suolo pubblico, ospedale pubblico, soldi pubblici, università pubblica, noi siamo andati senza la sua sgradevole compagnia a documentare come sono stati buttati via milioni di euro dei contribuenti campani. La differenza con l'ospedale da campo costruito in Fiera Milano è totale perché di là sono tutti soldi privati con una struttura inaugurata che ha ospitato medici, infermieri e pazienti. Grazie a tutti.